Aumentano i contagi nei comuni vesuviani. I contagi continuano ad aumentare e i dati ci segnalano l'ennesima giornata con un numero di contagiati superiore rispetto ai guariti. Nel comune editore del Greco, secondo il bollettino di ieri sera, si registrano 11 nuovi positivi, di cui uno in regime ospedaliero, numero molto preoccupante visto che al contempo si è attestata una sola guarigione. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati con 96 attualmente positivi, di cui 21 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata si registrano due nuovi casi di contagio a fronte di 76 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 2,63%. C'è stata anche una guarigione.